Si stringe sempre di più il cerchio attorno al responsabile della morte di Joël Ramirez Seipio, il 38enne, che domenica mattina in seguito ad una rissa davanti ad un locale del Valdarno Arettino è stato colpito da un'ampolla di narghile sbeccata. L'oggetto l'ha colpito al collo, le ferite sono state mortali per lui e è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia sul corpo del 38enne a Siena. Intanto proseguono le indagini coordinate dalla PM Francesca Eva e portate avanti dai carabinieri di Arezzo in collaborazione con la compagnia di San Giovanni Valdarno guidata dal tenente Tommaso Forziati. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tutto sarebbe partito dalla rite tra due donne, poi l'intervento di altre persone e alla fine sono state una ventina quelle coinvolte nella rissa. Sarà proprio l'incrocio delle testimonianze e l'analisi dei filmati a consentire agli inquirenti di arrivare a chi ha lanciato l'oggetto che poi ha colpito Joel provocandogli un'emorragia che non gli ha lasciato scampo. Si cerca non solo nell'Aretino ma anche nel territorio Umbro da cui arrivavano diversi avventori del locale.